Signori, benvenuti da Lux Babudottica, la catena di negozi di ottica più importante al mondo. Lì dove i nostri concorrenti esitano noi procediamo spediti, dove loro sterzano noi tiriamo dritti, dove si fermano ci lanciamo in avanti, perché noi siamo neopatentati. Ma per favore, giovanotto io sono al comando di questa azienda da vent'anni e l'ho fatta crescere cambiando quasi tutto. Cosa potrei cambiare ancora per migliorarla? L'uomo al comando. Giovanotto, per gestire un'ottica bisogna avere un'etica. Cos'è questo? Un punto di vista. Ma che? Come pensi che si vendano le lenti? Da sole? Anche da vista. Ora ti faccio un test, sai come funziona? Un test sulla tua preparazione. o rispondi bene o ti sbatta a mettere lenti a contatto ai gorilla, chiaro? Un cliente si lamenta che l'occhiale è sbilanciato per colpa dell'astina. Cosa gli dici? Che è tutta una montatura. Ha una lente dell'occhiale difettosa. Cosa gli rispondi? Di chiudere un occhio. Ecco, sta andando via. Cosa gli dici? Non perdiamoci di vista. Un altro ha le lenti oleose e fatica a vedere. Cosa deve togliere? Il prosciutto dagli occhi. No, la pelle di daino dalla custodia. E strofinare bene. Ma poi arriva la parte difficile, che è? Rimettere il daino nella custodia. Dove trovi i naselli? In pescheria. La cataratta arriva dopo? Un colpo di tosse. Cosa consigli a un cliente miope? Me lo pugnete. Cosa succede se un occhio non vede? Che cuore non tuole. Ha problemi con la messa a fuoco. Cosa gli manca? La carbonella. Un cliente alla congiuntivite. Come te ne sei accorto? Da come usavi i verbi? E se per vedere te guarda da un'altra parte, cosa significa? Che sta guardando il culo nella cassiera. Ha problemi di cornea. Cosa significa? Che la moglie lo tradisce. Se sono dal tonico, cosa mi consigli? Di non andare allo stadio. Ho messo il collirio, vuol dire che ho fumato spinello. Dove trovi il vetrino? Nella finestrina. La retina? Nei campiti di padel. L'esterno è la lente lontana dell'ipovedente. Allontana la gente dall'almento antagico dall'almento latente. Quindi il rintinente impeditentemente se nell'ambiente alterna volontariamente l'almento dell'allenamento alla lenta retorica dell'accetto vincente. hai capito chiaramente? Ma manco lontanamente. Sto lacrimando. Cosa vuol dire? la finanza? Fuori.